Ciao a tutti e benvenuti sui Diari Casa, siamo a Bologna Centro, zona Saragozza e in questo ingresso di casa il nostro cliente ha richiesto di sostituire il presente armadio con un armadio molto più voluminoso e luminoso. L'armadio è montato, abbiamo una misura di 183 x 260 con una profondità realizzata su misura allo stipite della porta, siamo a 47 cm. La struttura e i ripiani interni sono tutti realizzati in spessore 25 mm. Ampia anche la dotazione interna richiesta dal cliente, una doppia stagione con ripiano nel primo vano ed ancora una serie di ripiani con tubi e altra zona per conservare nel secondo vano. Tutte le ante hanno cerniere rallentate, parapolvere e gola esterna. La finitura, come vedete, è un bianco laccato lucido applicato sia alle ante sia al fianco di ingresso. Per tutti i nostri armadi su misura visitate il nostro sito www.darecasa.com ed i nostri canali social Facebook, Twitter e Telegram. Ciao e al prossimo video! Ciao!